Ma qui con me ci sono il sindaco Giorgio Gori e la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani, che ringrazio e che con il loro saluto aprono ufficialmente i lavori di oggi. Patrizia, a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Siamo davvero orgogliosi che nella nostra città si svolga la Digital Edition 2020 degli stati generali della scuola digitale. Anche questa è un'espressione concreta di quanto l'ecosistema scolastico bergamasco sostenga l'innovazione digitale, tanto nella tecnologia del lavoro quanto in ambito sociale, non solo per vincere la guerra contro la pandemia, ma soprattutto per proteggere lo sviluppo della nostra comunità, che vuole rimanere una delle migliori province d'Europa. Ci onora oggi la presenza del Ministro Lucia Zolina e la sua vicinanza al nostro territorio, dimostrata anche quest'estate quando ha condiviso con noi le preoccupazioni per gli esami di Stato in presenza. E saluto anche con molta cordialità tutti i relatori che arricchiranno la giornata di oggi. Ancora una volta voglio ringraziare l'amministrazione comunale della città che con convinzione, con molta convinzione, in questi anni ha sostenuto il nostro progetto di scuola 4.0 all'interno della visione di Bergamo Smart City, aperta all'Europa. Abbiamo avvertito la costante vicinanza del Sindaco Giorgio Gori, di cui apprezziamo l'attenzione che riserve in ogni occasione ai giovani e alla scuola in particolare. E l'entusiasmo e il lavoro appassionato dell'assessore Loredana Poli, in un clima di confronto rispettoso dei ruoli, ma sempre finalizzato a provare a fare di più e a fare meglio. Un saluto anche all'Associazione Impara Digitale, che da anni promuove nelle scuole bergamasche stimolanti riflessioni sul tema dell'innovazione digitale. Oggi vivremo un'edizione speciale, non solo perché sarà digitale, ma perché questo evento racconterà come in tempo di emergenza proprio la terra di Bergamo, così duramente colpita dalla pandemia, abbia continuato a lavorare con determinazione sul tema dell'innovazione digitale. La scuola, in tutte le sue componenti, è stata profondamente toccata dall'emergenza del Covid e ha avuto una reazione che, pur con tutti i limiti, può davvero definirsi straordinaria. Il panorama scolastico nazionale ci mostra che siamo di fronte, probabilmente, al più imponente e veloce processo di innovazione, originato dal basso, che il nostro sistema scolastico abbia mai sperimentato. Milioni di studenti e di docenti impegnati per ideare e sperimentare insieme un modello alternativo di apprendimento e di insegnamento. Per questo, desidero innanzitutto elogiare la scuola bergamasca di ogni ordine grado, statale e paritaria, per gli eccellenti risultati ottenuti con il grande impegno profuso nella partecipazione attiva a tutte le opportunità offerte per modernizzare le strutture e soprattutto la didattica nella scuola. Ma non basta. Serve di più. Serve una struttura digitale del modello sociale, che parta dalla società pubblica, che coinvolga processi e servizi della pubblica amministrazione e arrivi al contesto, alle città, all'infrastruttura, all'abitazione, agli uffici e alle scuole. Se non progettiamo nuovi modelli, l'opportunità di trasformazione nata da questo periodo forzato sarà stata completamente inutile. La scuola di Bergamo c'è, c'è e si impegna a lavorare in sinergia nel sistema Bergamo, continuando a sperimentare e costruire reali occasioni e opportunità di futuro, i cui tangibili risultati, frutto del tanto lavoro degli anni precedenti, hanno consentito, anche in tempo di emergenza sanitaria, di far sentire, attraverso il digitale, la sua insostituibile presenza accanto agli studenti e alle loro famiglie. Nella manifestazione di oggi discuteremo di didattica a distanza, che è stata come una zattera in mezzo alla tempesta, e come tale ha funzionato rispetto allo scopo, anche se non neghiamo le criticità. In ogni caso, la crisi ha stimolato la scuola a tornare all'essenziale, ai fondamenti, a riscoprire la vocazione educativa del sistema scuola e ad una migliore comprensione del rapporto con il digitale come ambiente educativo. E in questi mesi è divenuta ancora più evidente la necessità di ripensare la formazione dei giovani insegnanti nel digitale. I tempi ci chiedono di affiancare i nostri studenti in un percorso che li guidi ad acquisire una consapevole maturità digitale, tema che si aggancia a quello dell'educazione civica digitale, perché nessuno dovrebbe lasciare la scuola senza aver acquisito, tra le altre, le competenze digitali necessarie per essere utenti consapevoli delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione e per esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza. La maturità digitale è la combinazione di tre ingredienti. Il primo è la cittadinanza digitale, cioè l'abilità di usare le tecnologie digitali e i media in maniera sicura, responsabile ed efficace. Il secondo ingrediente è la creatività digitale, cioè quell'abilità di diventare parte di un ecosistema digitale, co-creando nuovi contenuti e trasformando idee in realtà con l'uso degli strumenti digitali. Il terzo è l'imprenditoria digitale, quella potente abilità di usare i media digitali e le tecnologie per risolvere sfide globali o creare nuove opportunità. Il diritto di cittadinanza digitale non deve essere strascurato dagli educatori e dalla scuola tutta che resta ancora oggi, ancora di più, la principale istituzione che educa a un uso formativo e critico dei nuovi media nella popolazione. L'emergenza coronavirus ha messo a nudo nuove esigenze per il Paese, soprattutto per le famiglie con figli e ha reso evidenti necessità che già esistevano e in particolare quelle legate alla digitalizzazione del Paese. Si è misurata tutta la distanza tra chi aveva a disposizione gli strumenti per comunicare, lavorare e studiare, potendo reagire al momento di crisi e chi no. Il divario digitale è una dimensione della povertà educativa ed è evidente che si va a sommare ai fattori di disuguaglianza già esistenti, dalla condizione sociale al luogo di residenza. Basti pensare al gap in termini di velocità della rete, vissuto dai ragazzi che abitano in alcune aree interne o alla disparità subita dalle famiglie che non possono garantire ai propri figli computer adeguati e connessioni veloci. Termino con una riflessione di speranza e fiducia. In questi mesi abbiamo scoperto che il digitale non è solo ciò che erode spazio alle nostre relazioni, che indebolisce i legami sociali, che genera una dipendenza. Al contrario, il digitale può riallestire il tessuto sociale, creare le condizioni perché le persone si riavvicinino, generare nuove reti di rapporti e di significati. Le tecnologie possono allora diventare tecnologie di comunità, perché la qualità della relazione non è una questione di formati o di strumenti e il digitale non è un'alternativa alla presenza, ma una sua dimensione. La relazione è il risultato dell'intenzionalità educativa, è la consapevolezza che l'altro è al centro della mia attenzione e il digitale può essere uno dei modi per mantenercelo. L'OS diviene supporto nei momenti di difficoltà, legame nella situazione di solitudine, presenza quando si sperimenta l'assenza. Capitava già prima del virus, nelle scuole in ospedale, nei progetti di istruzione domiciliare, nelle scuole dei piccoli plessi, in tutte quelle situazioni in cui tanti docenti, anonimi, senza protagonismi, lontano dai riflettori, hanno sempre dato testimonianza di che cosa significhi insegnare. Buona giornata del digitale a tutti!